Oggi vi porto un po' più lontani e in alto nel senso di un avvio sulle ali di utopia. Però parto con due interrogativi relativi a bellezza e utopia. Due termini, guardate bene, uso termini, non ancora concetti, decisamente polisemantici, che sono stati usati appunto in vario modo e della bellezza ne abbiamo prova. Oggi, che li ho accostati volutamente senza aggettivazioni ulteriori, mi propongo di avviare questa mia conversazione con due punti di domanda. Ecco, la prima è ovvio. Quali sono le connessioni e se ce ne sono tra queste due realtà. E poi la seconda, per me più importante, qui viene fuori un po' il mio mestiere di storico delle idee politiche, se questa connessione o queste connessioni hanno o possono avere una valenza sociale e politica. E la mia risposta, già ve l'anticipo, è ovviamente sì, perché altrimenti non mi sarei posto il problema. Ma va da sé che io vi parlo di una utopia intesa, non nell'uso corrente di una realtà sognata oppure di una aspirazione più o meno realizzabile, ma vi parlo di una letteratura utopica, di una storia della letteratura utopica che prende questo nome, non parte, era già partita molto, molto prima, che prende questo nome ovviamente con Thomas More, con la sua utopia. E non a caso, perché prende parte questa finzione letteraria o questa realtà letteraria in un momento ben preciso, vale a dire quando ritorna una centralità dell'uomo, una centralità dell'umano sul divino e si creano delle aspettative e delle connessioni marcate e profonde sugli uomini, sulle relazioni umane, sui destini e sulla realtà vissuta. Quando? Dove è chiaro. Nell'umanesimo, umanesimo rinascimento, 300, 400, 500, l'utopia di More viene pubblicata a fine 1516. Ecco, di fronte a questa che in ultima istanza, e non è la prima però in realtà, come vi dicevo, quella espressa da More andava a guardare a qualcosa di sognato. Sognato dove? In una realtà durissima, in una realtà dove vivere era veramente difficile, la vita quotidiana era dura, l'aspettativa di vita era molto, ma molto bassa. I dati non sono realistici perché la mortalità infantile era molto, ma molto alta, ma l'aspettativa media di un europeo a inizio 500 non arriva a 28 anni. Ovviamente ci sono ultrassettantenni anche tra i grandi che sono passati alla storia e però ecco, mortalità infantile, stile di vita e promiscuità, guerre continue, guerre violentissime, guerre che si combattono in maniera completamente nuova e diversa rispetto alla guerra medievale tra cavalieri a singolar tensone. Badata bene, non è una favoletta questa, sarebbe stato un'ignominia di attaccare due grandi nobili, quindi cavalieri in contemporanea, no? Certo, ognuno di loro aveva poi una fanteria d'appoggio, ma non vi sto qui a dire, ma anche questo ha una risvolta di cambiamento e di nuove aspettative. Che cosa è successo? Non soltanto una centralità dell'umano, ma una centralità restituita maggiormente da una riscoperta delle antichità greche e romane, soprattutto quella greca, ma questo apre subito una prima connessione. Vale a dire il rapporto col mondo greco viene subito vissuto come un sereno equilibrio, un equilibrio comportamentale di pensiero, di razionalità, che si sposa con un'idea di bellezza. Ecco, siamo già nel 400 e nel 500 e questa idea di bellezza fa da sé. Noi la vediamo nell'arte, la leggiamo nei grandi testi, ecco, ma attenzione, questo desiderio di equilibrio non è soltanto umano. Si sposa immediatamente con l'ambiente e con gli animali. Un equilibrio a tutto tondo tra uomo, natura e animali. Pensate, in casa Thomas More aveva una scimmia che era considerata membro di famiglia. Si fa dipingere da Hans Holbein con la scimmia e un cane. Aveva un significato per lui tutto, aveva un significato. Attenzione, stiamo parlando di una realtà che vive la comunicazione in maniera molto alta e con una estrema attenzione. Comunicano in pochi, comunicano soprattutto i grandi umanisti, coloro che sanno scrivere, ma attenzione, la maggior parte delle comunicazioni tra costure non sono in volgare, sono in latino e sono comunicazioni che costituiscono… bellissime queste lettere, io le ho inseguite per mezza Europa, adesso moltissime di queste sono visibili online con gioia di tutti, e anzi si leggono meglio, meglio di quanto, che so, io ricordo l'archivio di stato di Firenze che per primo ci metteva a disposizione la lampada al quarzo per poter leggere questi manoscritti, e si leggevano malissimo, ingrandendoli ora sullo schermo. Se sono a fuoco, vi posso dire che è una goduria per gli studiosi. guardate bene, non a caso, il primo archivio ad essere stato messo online è l'archivio mediceo avanti il principato, prima che i medici si facessero principi. Quindi parte dal Quattrocenzo, Lorenzo dei Medici, arriva al Machiavelli, che c'entra pochissimo marginalmente e naturalmente coinvolge tutti i grandi del tempo. Perché? Semplice. L'ingresso all'archivio di stato di Firenze era numero chiuso. bisognava arrivare prestissimo e c'era una coda tremenda. Sapete da chi era costituita la maggior parte dei presenti? Da americani. Ecco il mito, il mito di Firenze, il mito di un umanesimo molto marcato, molto profondo che si trasferiva anche in gesti concreti, la messa online dell'archivio mediceo avanti il principato. Lo sapevo, stavano firmandoli da tempo, io ero in montagna, l'hanno messo durante l'estate, ci si connetteva allora, ma vedo che molti lo sanno benissimo, con il dopino telefonico che si collegava dal telefono al portatile e, non vi sto a dire, avevo un appartamento in affitto, il costo del telefono, perché a quel punto non c'era più l'obbligo dell'orario d'archivio è stato dieci volte superiore a tutte le altre spese del posto, ma sto parlando di tempi lontani e non certo rimpiangendoli. Bene, ma torniamo ai nostri personaggi. Quindi non soltanto armonia, non soltanto armonia uomo, animali, natura, ma era la saggezza antica, la saggezza che acquistava una veste di bellezza moderna, con una connessione molto stretta tra l'utile etico e il dilettevole estetico, il gioco. E gli umanisti si sfidavano tra di loro e non potremo capire l'utopia senza capire questo gioco e questa sfida continua, che era una sfida che veniva lanciata in particolar modo sulla costruzione dei nomi. E allora ecco che Erasmo, che è l'artefice di tutto questo, che finalmente riesce a fare il viaggio in Italia nel 1506, spaventatissimo all'idea di incontrare i grecisti italiani, lui che ha studiato il greco come autodidatta e che è terrorizzato all'idea di subire un confronto negativo. Non accettava tanto di subire sconfitte sul piano culturale. E allora ecco che attraversa le Alpi, a dorso di un mulo, e scrive quello che passerà alla storia come Carmen Alpestre, che poi dopo è una disquisizione sui malanni della vecchiaia, ovviamente in latino forbito, e in questa disquisizione sui malanni della vecchiaia si dice vecchio, di quasi 40 anni, che non è riuscito a realizzare nessuno degli obiettivi principali della sua vita e che vuole realizzarsi concretamente per potersi presentare, per avere un biglietto da visita funzionale prima di entrare in Italia. È già un umanista di tutto rispetto, diventerà il principe degli umanisti poco dopo. E allora che cosa fa? Si prende una laurea dottorale a Torino. E già, perché Torino non è Italia, è Savoia. E qui, pensate, si ferma a Torino cinque giorni. Gli regalano la laurea, non poteva essere diversamente. E quindi entra in Italia come dottore, affronta gli scontri con gli italiani, capisce di essere superiore, abbandona il giovane che avrebbe dovuto accompagnare a Bologna, all'Università di Bologna, a studiare, facendogli da precettore. E si precipita a Venezia, a casa di Aldo Manuzio, l'editore per eccellenza del tempo. Perché? E ritorniamo all'argomento nostro. Perché Manuzio, da buon Veneziano, aveva una biblioteca stracolma di manoscritti greci. E il mondo greco era il punto di riferimento, di armonia e di bellezza. E lì Erasmo si ferma due anni abbondanti, la sua enciclopedia, gli adagi, i proverbi commentati, che erano 400 al momento dell'attraversamento delle Alpi diventano oltre 3.000. Capite subito? È un'enciclopedia per i dotti e lì dentro c'è di tutto. Ma soprattutto, uscendo dall'Italia, nel 1609, sempre a dorso di mulo, scrive l'elogio della follia. Era entrato dicendosi vecchio che non aveva mai, che non aveva realizzato nessuno dei suoi obiettivi. E ora si diverte a criticare pesantemente il proprio tempo e non solo i dotti, non solo la cultura, ma il Papa, i prelati, l'imperatore, i principi, i nobili, tutti. E come fa? Guardate bene. Non siamo ancora in controriforma con l'indice dei libri proibiti e il Tribunale dell'Inquisizione che c'è, ma funziona e non funziona. Però il controllo è molto forte. Ecco il trucco, ecco il gioco. È la follia che parla. E la follia può permettersi di prendere in giro tutto e tutti, perché si sa. Quello che la follia critica va esaltato, quello che esalta va criticato. E però la follia è quella che ci aiuta nella nostra vita quotidiana. Il titolo dell'opera è l'emblema di quello che vi sto dicendo. Non la finisce ovviamente con il suo perfezionismo per strada. Dove sta andando? A casa di Moore, a Londra. E la finisce a casa di Moore. E che titolo le dà all'opera? Un titolo grecizzante. Encomion murie, appunto erogio della follia. Ma che fa riferimento a Moore in maniera più che evidente? Ve ne do un esempio. Ce l'ho qui sotto mano nella traduzione veramente meravigliosa di Eugenio Gren. E subito, all'inizio, la follia parla della dimensione umana, di grazia. Ti odia se stesso? Come potrà amare qualcuno? Punto di domanda. Chi è interiormente combattuto? Potrà forse andare d'accordo con gli altri? Potrà chi è sgradito e molesto a se stesso riuscire gradevole a un altro? Nessuno, credo, lo affermerebbe se non fosse un pazzo, più pazzo della follia stessa. Pertanto, se non ci fossi più io, io follia, sia ben chiaro, lungi dal sopportare il prossimo, ognuno in viso a se stesso proverebbe disgusto di sé e delle cose sue la natura. Infatti, in molte cose matrigna piuttosto che madre, apposto nell'animo dei mortali, soprattutto se appena più intelligente, il seme di questo male, scontento di sé e ammirazione per gli altri. Di qui il venir meno e l'estinguersi di tutte quelle squisite doti che sono il profumo della vita. Vedete? Ambiguità, ironia, follia che parla. E qual è la soluzione che Mor naturalmente ripre, ricalca uno schema, ma lo vuole fare proprio. Utopia è una realtà che esiste, che un nauta, un navigatore che ha navigato con Vespucci. Negli ultimi viaggi e che si è fatto lasciare sulle coste settentrionali atlantiche del Sud America, per visitare i paesi del luogo. E in queste sue visite, questo viaggiatore si chiama Raffaele Iclodeo, di nuovo un termine greco, che significa un gioco di parole, vuol dire chiaccherone ma anche contafrottole. Uno al quale non dare retta, insomma, vive per cinque anni in un paese, in una società, in un'isola chiamata Utopia, che il suo fondatore Utopo, vedremo subito il significato, ha addirittura reso isola sbancando l'istmo. Perché? Per eliminare ogni contaminazione. E questo era un paese di persone non virtuose, anzi tutt'altro, rese virtuosissime da Utopo. E Utopia che cos'è? È il paese che non c'è. Che Moore intendesse questo, ce lo dice il termine che aveva usato nella prima versione latina, nusquama, stessa cosa. Ma nusquama è troppo forte. E allora ecco l'opzione per i termini di origine greca. Il negativo di partenza, non luogo, ma attenzione. L'opera viene percepita immediatamente da Moore, da Erasmo, che è la legge per primo, dagli umanisti, una rete minimale, un centinaio di dotti europei massimo che avevano collegamenti strettissimi pressoché quotidiani epistolari tra di loro. E capiscono subito che è un'opera rivoluzionaria. E allora la difendono. E come la difendono? La difendono aggiungendo delle lettere che vengono identificate con lettere preliminari. Stiamo parlando di un latinoaulico, tutto è latinoaulico. Lettere preliminari che però attestano, perché le firmano autorevoli personaggi, autorevoli umanisti del tempo, persone ben note, che attestano che è un gioco, che non va preso troppo sul serio. E una di queste lettere non è ben firmata, anzi ha una firma, una firma di nuovo giocosa. È un poeta laureato che si chiama Anemolio, Anemolius. Vuol dire pieno di vento, vuol dire uno che ne racconta di ogni genere. E non mette una lunga lettera, sei versi, un esametro, ve lo leggo. Gli antichi, vi leggo la traduzione ovviamente, la traduzione di Luigi Firmo. Gli antichi mi chiamarono utopia per il mio isolamento. Adesso sono emula della Repubblica di Platone e forse la supero. Infatti ciò che quella a parole ha tratteggiato, io sola la attuo con le persone, i beni, le ottime leggi. Sicché ha buon diritto, merito di essere chiamata eutopia. E-u, non o-u, è negativo. E cosa vuol dire eutopia? E-u, felice, bello. Quindi è il luogo felice, è il luogo dove si vive bene. E chi è questo Anemolio? Ma è Mor stessa. Chi dice, badate bene, un'altra interpretazione di quello che vi sto descrivendo potrebbe essere per l'appunto quella di un luogo altamente felice e moralmente elevato. Ecco, la connessione tra gioco, bello, armonia, isolamento, felicità e morale, condotta morale. E infatti il bello in utopia che cos'è? È un bello morale. È un bello che è strettamente connesso col miglioramento della propria vita, con l'acquisizione di meriti. Ora, vi ho detto, racconta tutto questo ad Anversa, finzione, ma Anversa, Mor c'è stato veramente, e ad Anversa scrive il libro utopico per eccellenza. Lo scrive in un momento, e Mor ha già una carica politica importante, diventerà poi cancelliere del Regno d'Inghilterra, seconda carica dello Stato, e lascerà la testa sul patibolo perché non vuole riconoscere Enrico Ottavo, che si è separato dalla Chiesa Romana perché questa non ha riconosciuto il suo divorzio con una moglie ingombrante, un Asburgo, ma comunque non ha riconosciuto il suo divorzio e mora e si dichiara capo della Chiesa inglese, anglicana, nel frattempo è già scoppiata, dopo il termine giusto, la riforma luterana. Un anno dopo la pubblicazione dell'Utopia, Utopia 1516, l'affissione delle tesi di Lutero 1517, anche se l'esplosione è poi con le grandi opere del 1520-21. Beh, vi dicevo, Itlodeo, il contafrottole, descrive questa isola, le norme politiche, i comportamenti quotidiani, le regole sociali ed è quello che Moore scrive per primo, è quello che diventerà il secondo libro o la seconda parte di Utopia, lo scrive ad Anversa in una pausa di una missione diplomatica della quale fa parte. Una pausa lunga, una pausa di qualche mese sul finire dell'estate del 1515, rientra a Londra e capisce che la sua opera può essere capita male o non capita se non dai grandi umanisti. E allora aggiunge il primo libro. E il primo libro è sempre Itlodeo, perché è un dialogo che prima di andare con Vespucci ha visitato anche l'Inghilterra. E si è stupito di fronte alla non funzionalità della società inglese, alle ingiustizie, alla pena di morte che veniva combinata per le azioni non degne di questo. Ai ladri. Attenzione, qui c'è un grande cambiamento. Emore se ne fa portatore. Il commercio della lana è diventato molto remunerativo e le campagne inglesi, non particolarmente numerose, coltivate però bene e che davano vita e una condizione sopportabile di esistenza a un numero rilevante di contadini, vengono recintate e requisite per allevamenti di pecore. Le pecore che mangiano gli uomini e gli uomini che per sopravvivere sono costretti a rubare. E lo Stato inglese che ne impicca addirittura cinque per patibolo e che costella le strade di patiboli per dare l'esempio. E Eplodeo è testimone di questo. Ne parla con il cardinale Morton a tavola, a casa sua invitato. E allora ecco che viene svelato tutto. Perché Mort scrive Utopia? Scrive Utopia per disegnare una società perfetta o comunque una società degna di essere considerata modello che è stata realizzata in un'isola lontanissima da persone che non conoscevano i testi sacri, che non conoscevano la Bibbia e il Nuovo Testamento e che non avevano quindi come i principi europei delle guide, dei manuali, di testi sacri in grado di guidare il loro comportamento e che si facevano tiranni, assassini, in guerre continue e che si circondavano, nobili con loro, di corti di persone nulla facenti e che davano vita a ozio ma anche a luscio smuodato e del tutto ingiustificato a fronte di una miseria quotidiana sempre più inaccettabile degli ultimi, dell'uomo comune, di quello che aveva seguito Lutero, che seguirà o meglio Lutero da lì a poco. Ecco quindi il gioco di specchi che risulta chiarissimo. La critica all'Inghilterra, primo libro, e Itlodeo si mette a raccontare le vicende dello stato di utopia e si vede subito che utopia è una critica ulteriore al comportamento dei principi degli inglesi, dei potentati inglesi ma dei principi europei, cristiani, incapaci di fare il loro mestiere. E allora ecco che la matrice greca diventa lo strumento attraverso il quale far passare tutte queste innovazioni. Chi è il capo delle città 54, o meglio 53 più Londra, che sono le contee dell'Inghilterra del tempo, quindi ancora una volta una fotocopia dell'Inghilterra del tempo, le 54 città di utopia che hanno un rapporto strettissimo con la loro campagna. Perché coloro che vivono in città periodicamente, ogni sei mesi, vengono trasferiti in campagna a lavorare i campi. Ma lavorano tutti, ma proprio tutti. E non ci sono corti, nobili, non nobili, borghesi e non borghesi che si sottraggono. E c'è bisogno di solo sei ore di lavoro al giorno, tre al mattino e tre al pomeriggio. E in più ancora, non solo bastano sei ore, ma ne rimangono tantissime per poter leggere, per poter studiare, per potersi dedicare a quelli che sono i veri lavori significativi che lasciano un segno profondo. Chi è il capo di ognuna di queste città? Un personaggio che si chiama Ademo, senza popolo, è di nuovo un gioco di parole. E la capitale si chiama Amauroto, che vuol dire semplicemente città evanescenze. È la Londra del tempo, che è sempre pervasa da nebbie fittissime. E viene attraversata da un fiume, come il Tamice. E come si chiama il fiume? Anidro, senza acqua. Ecco, a questo punto il gioco. Il gioco è molto chiaro e ecco che è un'utopia dove non esiste la proprietà privata, dove non c'è danaro. Non ce n'è bisogno. Non esiste la necessità di danaro. E anzi, questa è una condanna per le compagnie che prestano ad interesse e per le compagnie dei traffici economici del tempo che rendono appunto le città cristiane in sentine di vizi, dove chi ha soldi può permettersi di schiavizzare gli altri e di godere di privilegi. E vengono eliminati tutti i mestieri inutili. Tessitore, muratore, fabbro, carpentiere e le manifestazioni di ricchezza condannate. Pensate, le catene degli schiavi, pochi e schiavi perché meritano moralmente o per il loro comportamento estremo e al di fuori di ogni logica e regola, le catene di che metallo sono? Ma d'oro. E gli orinali? D'oro. E potrei andare avanti di disprezzo naturalmente. L'altro aspetto che invece a noi interessa di più è la tolleranza religiosa. Ognuno è tenuto, può, può credere nella religione che lo rende maggiormente equilibrato e felice, anche se la maggior parte, dice lui, venera un unico Dio inconoscibile, immenso, eterno, inesplicabile. E ognuno di loro, qualunque sia il Dio in cui crede, pensa, attenzione, che esso debba coincidere con la natura. Di nuovo l'equilibrio, di nuovo l'armonia. Tutti sono però tenuti a credere nell'immortalità dell'anima, nella providenza divina, nella retribuzione ultraterrena, e cioè in una vita oltre la morte. E chi non ci crede può. Sono tollerati anche quelli che non credono in questo. Non avranno incarichi politici. Ecco, una tolleranza che costerà amor, la santificazione. Lascia la testa sul patibolo nel 1535, vent'anni dopo, avere scritto la sua utopia, non gli aveva creato problemi. Perché non vuole riconoscere, come già vi ho detto, Enrico VIII come capo della Chiesa, per difendere la superiorità del Papa, l'universalità del Papa e della Chiesa romana, e la Chiesa romana non lo santifica. Abbiamo già visto un motivo. Lo abbiamo già visto. E un secondo è l'eutanasia. Ospedali meravigliosi. Gli ammalati vengono accuditi. Giovani o vecchi che siano. Guardate bene che gli ospizi del tempo erano disastrosi. Ma, cito ancora, quando il vivere è diventato una tortura, ricorrono all'eutanasia. La Chiesa romana non poteva accettare questo. Come non poteva accettare il divorzio che veniva così riconosciuto dalle autorità in pochissimi casi. Ovviamente nel caso di infedeltà, ma anche e soprattutto in un caso veramente unico di parole di Moore insopportabile aggressività di carattere. Eutanasia, divorzio, e allora ecco che Moore diventerà santo soltanto nella ricorrenza dei 400 anni del suo supplizio nel 1935. La prima pena di morte è combinata per pochissimi casi. Un altro caso emblematico è, di nuovo parole sue, è proibito pena la morte tenere qualsiasi consultazione sulla Repubblica al di fuori del Consiglio e nel luogo prestabilito per le pubbliche elezioni. Come dire, non nella chiacchiera quotidiana, non nei salotti che non c'erano comunque nella quotidianità. Soltanto coloro che erano deputati, deputati a questo potevano farlo. Potrei subito partire con una rassegna, ma è già troppo tardi, delle utopie, facendovi vedere questo complesso e pocangiante rapporto tra armonia, bellezza, utopia, ma ve ne cito solo uno che è anche il primo, nel quale viene ricopiato lo schema di Mor, ma viene fatto da un luterano, anzi, da un frate, da un frate che si converte al luteranesimo in una maniera encomiastica sulla base degli scritti luterani del 1520, mentre sta criticando la quaresima a Ulm e che è un abilissimo retore che è considerato da alcuni addirittura il Lutero della Germania del Sud, non appena abbracerà il luteranesimo, tanto sa trasferire su quelli che erano gli scritti volanti, Flugschriften e gli scritti volanti erano opere brevissime, otto pagine, eccezionalmente sedici, in caratteri gotici, che erano i caratteri del tempo molto ampi, perché potessero essere letti con delle figure esplicative e che potessero essere letti a coloro che non sapevano leggere, pubblica nel 21 521, sei anni dopo la pubblicazione dell'Utopia, solo tre anni dopo l'ulteriore e ultima edizione di quest'opera a Basilea, in territorio tedesco praticamente, Basilea ancora pienamente è ancora una terra di confine, beh, in una edizione nella quale Erasmo finalmente non l'aveva ancora fatto, aggiunge una sua letterina preliminare dichiarandola tardiva e quasi e giustificandosi così per non averlo fatto prima, tanto era timoroso per l'eccezionalità e la dimensione rivoluzionaria di questo scritto, ebbene, uno di questi due, due di questi opuscoli che suonano Statuten Haus dem Land Wolfaria sentite subito sono in tedesco non in latino vogliono parlare all'uomo comune sono gli statuti del paese di Wolfaria e che cos'è Wolfaria? è il paese dove alles Wolf Hart dove tutto va bene è il paese del benessere Wolf Hart ma è un paese ecco noi diremo staliniano e già perché Lutero divide in maniera secca il bene dal male appena viene pubblicata l'opera di l'utopia a Basilea Lutero lo viene a sapere e scrive in una lettera Utopia Morinam Sizio ardo dal desiderio di leggere l'utopia di Mor non ne parla più capisce subito che è tutt'altra storia la tolleranza il gioco l'umanesimo la riforma non è rifiuto dell'umanesimo l'uomo si salva solo con la grazia con un atto unilaterale di Dio ecco però e lo ribadisco ancora che qui viene spezzata questa armonia moreana che aveva una marcata radice nella Grecia classica e riscopriamo e con questo chiudo una presenza del mondo greco a metà settecento importantissima e qui radichiamo il tutto di nuovo ad un presente pulsante l'avrete sentito nominare forse è il teorico il teorico dell'arte che dipinge la bellezza armonica Winkelmann siamo alla metà del settecento lui che è passato da una professione all'altra arriva a fare il bibliotecario di un principe vicino a Dresda e lì si innamora dei testi greci e soprattutto si innamora delle sculture greche e allora ecco che si mette al seguito di un nunzio del nunzio polacco per andare a Roma e perché a Roma non aveva la possibilità di andare in Grecia ma si sapeva che a Roma vi erano copie delle statue greche e non solo ma essendo al seguito di un alto prelato ha la possibilità di vedere le raccolte migliori della Roma del Tempo e chiuse a tutti la raccolta del Belvedere e la raccolta subito dopo di un altro principe ecclesiastico il Cardinale Albani del quale diventerà bibliotecario che è una raccolta di statue e che definisce queste statue già sulla base delle letture solo sulla base delle letture che ha fatto in termini che diventeranno l'emblema del neoclassicismo vi leggo vi leggo un passo che è classico dell'opera che lui ha pubblicato l'anno prima di trasferirsi a Roma la pubblicata nel 54 anzi la pubblicata all'inizio del 55 e nell'estate del 55 si incammina per Roma l'opera ha il titolo pensieri sull'imitazione delle grandi opere greche nella pittura poi la pittura scomparirà e nella scultura testo la generale principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza sia nella posizione che nell'espressione come la profondità del mare che resta sempre immobile per quanto agitatane sia la superficie l'espressione delle figure greche per quanto agitate da passione mostra sempre un'anima grande e posata parole scolpite nel marmo e messe ancora appunto nell'opera che lo renderà famosissimo pubblicata a Roma dove avrebbe dovuto trattenersi soltanto per due anni poi una delle tante guerre del tempo la guerra dei sette anni gli impedirà di ritornare in Germania e si ferma a Roma fino alla morte avvenute peraltro in maniera drammatica pubblica quest'opera Geschichte der Kunst des Altertums storia dell'arte dell'antichità nel 1763 che l'anno dopo diventa sovrintendente alle antichità a Roma e allora che cos'è questo equilibrio che cos'è questa bellezza questa bellezza che caratterizza le statue greche naturalismo proporzione simmetria forma ragione ma soprattutto ordine perché soprattutto ordine attribuito alla Grecia mai visitata da Winkelmann mai alle bianche statue greche ad una Grecia immaginata ad un acropoli immaginato circondato da cosa? da disordine da colori da passionalità da mondo arabo da Medio Oriente compresa la realtà israeliana e allora ecco che questa passionalità sensualità colore in eccesso del tutto estranea al bianco armonico greco permette di ribadire una superiorità della Grecia nei confronti di Roma guardate bene Winkelmann arrivando a Roma si era convertito al cattolicesimo in questo non c'era nessuna motivazione religiosa che ci sarà invece in seguito vale a dire perché la Grecia è superiore a Roma qui c'entra la democrazia è già un mito come è diventato un mito la grecità con lui quindi la democrazia atenese contro l'impero romano ma non solo questo di che cosa è la patria Roma del tempo del barocco degli anni precedenti colori disordine ricchezza di cose che invece la bellezza è semplicità è armonia lineare e allora ecco che da una parte il bianco bianco sarebbe bello adesso non ho più tempo fare la storia di questo colore meravigliosa meravigliosa perché sfocia ovviamente nel razzismo bianco emblema di purezza di verginità di fede perché et fiat lux la luce è la creazione e quindi ecco ma il bianco è anche una realtà tremenda perversa come veniva creato allora il bianco prevalentemente non solo ma prevalentemente era biacca che avete sentito sicuramente nominare e come si faceva la biacca con lamine di piombo lamine di piombo immerse nell'aceto con ulteriori trattamenti che non vi sto qui a raccontare che variavano da paese a paese che affondava le proprie radici nella antichità più profonda prima della Grecia consolidata in Grecia consolidata anche a Roma ma era un colore estremamente tossico ed è da sempre oltre che a quei valori morali e religiosi di cui vi ho detto il colore della bellezza femminile con le donne che già dall'Egitto si coloravano il viso di bianco e ancor più con la rinascita della grecità l'emblema è Elisabetta prima d'Inghilterra che si colorava il volto di biacca per coprire i segni del vaiolo che aveva avuto da bambina ma che le creavano ferite ulteriori ma soprattutto inquinavano il suo sangue facevano cadere i capelli e l'hanno ridotta in semipazia ecco questo per dirvi ma attenzione un percorso con il quale chiudo dalla metà del settecento al primo ottocento inizio dell'era romantica incomincia il mito della grecità come armonia ed equilibrio un'armonia ed equilibrio superiore alla romanità pronta per essere usata come emblema dei tedeschi e lo sarà subito Herder seconda generazione dopo Winkelmann seconda metà del settecento muore all'inizio dell'ottocento subito dice ecco da loro noi prendiamo la nostra cultura da loro noi ci siamo di loro noi ci siamo e ci bati noi siamo i loro eredi attenzione solo lui lo ribadiranno affermando sempre di più il ruolo della Germania in un momento in cui la Germania doveva combattere per la sua unità siamo già in pieno ottocento sino alla fine dell'ottocento in una crescita esponenziale in una crescita nella quale mettiamo personaggi come Herbert Herder Humboldt Hegel Goethe ancora prima e ancora più avanti altri sin dove sino ai nazisti ecco questa grecità patria dello spirito greco diventa superiorità del mondo tedesco questa grecità patria della cultura tedesca diventa superiorità di questa cultura superiorità nei confronti di tutta quanta l'Europa che deve essere piegata ai suoi piedi non solo ma si va si va oltre addirittura i greci hanno degli antenati degli antenati tedeschi i dori che si sono trasferiti per motivi climatici nella Grecia e poi ora ritornano a casa emblemi di questo emblemi di questo beh anzitutto c'è da dire che per Hitler i greci erano il punto di riferimento per ribadire ogni tipo di superiorità allora due esempi e con e con questo no scusa volevo solo dirti ho ricevuto un messaggio non c'è connessione mi dice questo un messaggio che mi è arrivato adesso ve lo vedo ora dalle 18 e 22 per questo che ve lo volevo dire voi mi sentite voi che siete io ho sentito tutto e allora qualcuno qualcuno che ha problemi di linea anch'io ho sentito anch'io anch'io sto sentendo tutto io anch'io senti tutto è Maria Maria Paglia che mi ha mandato questo messaggio mi ha voluto avvertire mi piace tanto ma di più non so proprio cosa scusate ho appena inserito la super fibra per cui ho una fibra abbastanza potente infatti si sente benissimo sì sì no no scusate quindi è un falso allarme prego no 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 scusa non ti volevo dire un allarme esempi che abbiamo uno lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni l'inno alla gioia di Beethoven bellissimo l'inno alla gioia di Beethoven ricalca le parole le parole dell'inno alla gioia di Schiller di Schiller Beethoven è il coro il coro finale della Nonna Sinfonia che suona come ritorno alla dimensione divina dell'essere umano idealizzata nell'antica Grecia parole del coro gioia bella scintilla divina figlia dell'Elysio ecco la Grecia ebri e ardenti noi entriamo creatura celeste nel tuo santuario la tua magia ricongiunge ciò che la moda ha rigidamente diviso tutti gli uomini diventano fratelli dove la tua ala suave si posa è il nostro inno di europei e ha una matrice molto forte in questo mito del tutto infondato di Winckelmann e già perché basato sul bianco e sull'armonia bianca delle statue ma voi sapete benissimo che le statue inglese erano coloratissime coloratissime ed erano diventate bianche perché scolorite nei millenni bianche nelle copie romane ma c'era un altro passaggio quando la Grecia raggiunge raggiunge la sua autonomia 1829 si affida la prima ad una sorta di repubblica non pienamente funzionale e due anni più tardi ad un sovrano e chi è questo sovrano? Assicurato dalle tre grandi potenze europee che hanno garantito l'indipendenza della Grecia l'Inghilterra la Francia la Russia è un tedesco è un principe bavarese è ottone di Wittelsbach che diventa ottone di Grecia e che lo resterà per trent'anni dal trentadue in poi e cosa fa come prima cosa? Porta la capitale ad Atene che non era più capitale della Grecia e restaura il Partenone che era stato ridotto perché in una posizione elevata o meglio l'acropoli in una posizione elevata era stato ridotto a una fortificazione senza tener conto ovviamente della classicità che incarnava quindi andava ristrutturato restituito e viene fatto da chi? Da progettisti tedeschi e realizzatori tedeschi e cosa fanno per prima cosa? Adeguano l'acropoli al mito di statue e strutture bianche e solo bianche e tolgono gli ultimi residui di colore la cosa era già penetrata oltre oceano mia moglie mi sta dicendo che sto esagerando era già entrata oltre oceano e che succede? Guardate gli edifici pubblici americani di che colore sono? Che caratteristiche hanno? Colonne e bianco capite che quindi è una pervasività di questa idea di bellezza che per buona parte in buona parte viviamo ancora noi come equilibrio e armonia come raffigurazione di un bianco importante e rasserenante e naturalmente tutto questo in una logica politica questo significa ordine significa negazione del disordine significa negazione di ogni rivolta rivoluzione ambiguità sensibilità estrema capite subito popolo pericoloso e tenuto in bella in bella guardia secondo esempio l'Olimpia di Leni Riefestal è il film 1938 bellissimo Riefestal grande regista ma che cosa fa? mette in pratica gli insegnamenti che abbiamo visto nascere a metà del settecento essere sviluppati che arrivano fino a Hitler l'incarna l'incarna sino in fondo i primi dieci minuti è online i primi dieci minuti sono statue greche una dopo l'altra una rassegna di statue greche e si animano prendono il corpo di donne e di uomini tedeschi come si vede dal taglio dei capelli dal colore dei capelli li attraversano di corsa tutta l'Europa e segnano il loro passaggio che arrivano nello stadio di Berlino ancora a riaffermare non soltanto che in Grecia sono nate le Olimpiadi ma che la Grecia con la sua armonia statuaria è la matrice della nostra cultura che è e deve essere Gemini attenzione non cercate estremismi nazisti in questo film la data 1938 si prepara la guerra ma la guerra non c'è ancora stata dobbiamo dare un messaggio un messaggio di una Germania illuminata bella pacifica e addirittura c'è Owens che corre vince e quindi ecco credo di avervi così segnalato come da falsi storici idee di bellezza e visioni mitizzate e utopiche si arriva a manifestazioni concrete di non poco conto un ultimo dramma del nostro tempo ci riporta ad una forma di distopia drammatica e di questo io non parlo un solo cenno perché non sono uno specialista è un discorso che va lasciato a psicologi e a psichiatri e che però rimanda a quel long life vale a dire a quella commissione tra web e vita che noi viviamo quotidianamente a quella che è stata chiamata ubriacatura social dell'ultimo decennio e che cos'è? è il disagio profondo anzi malattia crescente in maniera esponenziale soprattutto ovviamente dopo la pandemia ma ora indipendentemente da questo che prende forma di cosa marcata disistima ricordate Erasmo da Rotter non a caso ve l'ho letto senso di inadeguatezza isolamento è molto alto è stata codificata la malattia dismorfofobia vale a dire un disturbo psicoattitudinale caratterizzato da una ossessiva preoccupazione di un difetto fisico che magari non c'è o che è minimo e che diventa un'ossessione drammatica ecco i numeri sono in crescita esponenziale preoccupanti al massimo devo dirvi che ho appena sentito una conferenza di una illustre psichiatra e docente universitario milanese che non attribuisce al web questo enorme e crescente disagio giovanile in questo caso coinvolge la bellezza o un senso un senso distopico o non ben definito di bellezza e che sostiene invece che questo disagio non è dovuto al web non è colpa dei giovani ma è colpa di adulti fragili inadatti a trattare con giovani e a fare il loro mestiere ecco però non sarà un caso che uno dei paesi che hanno avuto maggiore attenzione verso questi problemi vale a dire la Norvegia ha imposto per legge da pochissimo un logo che bisogna imprimere su tutte le immagini modificate in rete eh già perché se voi andate a cercare su un qualsiasi motore di ricerca filtri di bellezza rimanete stupiti nel vedere tutte le possibilità che vi vengono fermi e moltissimi giovani non osano più mostrarsi come realmente sono in rete ma mostrano solo immagini pesantemente ritoccate guidate da un ideale boh di bellezza non ben identificato un dramma che ha bisogno senza ombra di dubbio di interventi massicci anche perché si è trasformato in manifestazioni di autolesionismo e atti ancora decisamente più gravi e qui mi fermo e vi chiedo scusa di avervi tormentato così a lungo grazie grazie c'è c'è già una mano alzata di Federica che chiede la parola Federica prego eccomi scusate non attivo l'audio perché in questo tratto di strada non prende benissimo e ho paura di perdere la connessione professore a proposito delle ultime considerazioni che faceva riguardo il virtuale le immagini trattate eccetera eccetera potrebbe essere riprendendo Thomas More l'utopia contemporanea il metaverso qualcuno ha collegato ha collegato con questo ma badate bene alcuni di questi giovani perché il metaverso è già presente è già possibile vivere sul metaverso ma la cosa è molto ma molto più banale cioè questi giovani che sono sempre più isolati che non hanno il coraggio di confrontarsi con se stessi e che ci dicono io leggo soltanto che passano buona parte del loro tempo sia su internet ma soprattutto davanti a uno specchio e non vale solo per le ragazze ma anche per i ragazzi beh tutto questo ha una serie di combinazioni veramente tremende di fuga da se stessi di fuga dal presente di fuga dalla società di fuga dall'amicizia di fuga dai contatti amicali il metaverso in qualche misura almeno era stato progettato poi ha preso delle deviazioni allucinanti e come voi ben sapete chi addirittura ha cambiato il nome della propria società in meta lo sta abbandonando o pensa di abbandonarlo bene il metaverso invece aveva come obiettivo la coltivazione di rapporti amicali qui invece è una fuga è una fuga drammatica è un isolamento la figura degli ikikori questo auto isolamento in casa di questi giovani giapponesi anni 80 del secolo scorso diventata americano anni 90 del secolo scorso arrivata ormai da tempo in Italia sto parlandoli di decine e decine di migliaia di giovani testati capite che equipto parlando di una forma estrema sia ben chiaro ecco qualcuno che parlasse di queste cose e ci vorrebbe probabilmente e non sarà facile trovarlo Temo posso se non c'è se non c'è nessuno io non riesco a iscrivermi a volevo tanto ringraziare moltissimo Enzo e dire che di questo comunque parleremo al festival di questo aspetto e credo che sarà anche il centro di un prossimo intervento di uno psicanalista che si occuperà proprio di questi aspetti io volevo ringraziarti e molto velocemente dire che è importantissimo quello che tu hai detto a proposito dell'umanesimo perché troppo spesso noi consideriamo l'umanesimo come sinonimo di antropocentrismo e questo sì te lo dico perché nella letteratura che è così legata ai temi dell'ambiente umanismo e antropocentrismo sono termini intercambiabili e qui occorre veramente invece ricordare che è un'eredità preziosissima come tu hai mostrato che noi dobbiamo conservare gelosamente perché un conto è la visione antropocentrica che è quella appunto del dominio dell'uomo sulla natura ma la tradizione umanistica dal rinascimento in poi è invece proprio il legame profondo tra uomo e natura con tutto quello che ne consegue quindi noi pensiamo a Bruno Campanella quindi le cose che tu hai detto sono importanti proprio per chi si occupa di ecologia e quindi dovrebbe rivendicare l'umanesimo come una tradizione da rivalutare poi sono anche molto grata perché in questo tenere insieme il benvivere la bellezza hai parlato anche di eutanasia e di divorzio e questo è un altro tema che alla bioetica sta molto a cuore adesso io non voglio rubare spazio e tempo ad altri interlocutori ma ripeto hai segnalato dei percorsi molto fertili che saranno preziosi per il nostro festival e soprattutto ci hai dato un panorama assolutamente affascinante di questo di questo itinerario va bene quindi molte grazie Enzo io purtroppo mi devo allontanare perché ho un impegno di nuovo online perché siamo allora ci saranno altri c'è un commento in chat di Pinuccia che si scusa perché ha qualche difficoltà con il collegamento ma volevo chiedere al professore se era possibile soffermarsi sul bello come bello morale è un tema che mi sembra molto affascinante eh sì sì questo è l'utopia mor l'utopia moreana ma anche erasmo nella dimensione del bello inseriscono in maniera decisa l'elevamento morale dei singoli e dei singoli insieme ad altri ecco la connessione eh e eh la societas che diventa eh un momento portante quindi eh non viene eh tanto enfatizzata la bellezza in quanto tale ma la bellezza in quanto bellezza che ha le azioni morale totalmente diverso è il discorso da Winckelmann in poi Winckelmann proprio sulla scia di Bongard va beh che stacca completamente il bello dal bene altre realtà che non ci devono interessare noi dobbiamo guardare il bello come armonia come semplicità come essenza come assenza di colore che vuol dire assenza di disordine assenza eh di sensualità che crea eh problemi eh adove invece questo grande equilibrio interiore che non è un equilibrio morale ma un equilibrio di benvivere di benvivere eh che ognuno conquista e che però ben presto come avete sentito diventa eh una strada maestra verso la superiorità la superiorità non solo etica non solo culturale ma la superiorità grazie e quindi il dominio è quello che ne è è derivato non so se hai risposto sì sì noi abbiamo richiamato la calogazia calossa grazie grazie proprio sì ci sono mi piacerebbe posso due cose una rispetto alla questione del del bello già Aristotele quando voleva parlare del buono usato il termine calos in etica nicomachia usa proprio quel questo termine quando belle buono morale insomma ecco il buono morale usa calos non usa altri altre terminologie questa va beh una piccola l'altra cosa invece che ti volevo chiedere è un po' diciamo dissonante rispetto alla all'utopia e cioè cosa ne pensi della critica durissima di Popper nei confronti del pensiero utopistico e di Platone in particolar modo di Platone che è un concetto stesso di utopia che sarebbe la negazione della società aperta ecco su questo tipo di questione potrebbe essere importante da uno studioso come te del certo attenzione attenzione se noi fermiamo il discorso a Platone e lo estendiamo ovviamente alle utopie più esasperate e alle distopie Popper ha perfettamente ragione ecco se noi andiamo ad analizzare lo stato platonico in ultima istanza è uno stato ultra controllato totalitario lo stato distopico nel quale nessuno di noi vorrebbe vivere e naturalmente Popper che era reduce da questo e come ben sai ha scritto il libro di Getto se gli è venuto lunghissimo non riusciva a pubblicarlo per vari motivi primo per gli attacchi e secondo per la lunghezza e poi ce l'ha fatta finalmente beh ma attenzione c'è anche un altro motivo per cui non riusciva a pubblicarlo eravamo sul finire della guerra e quindi scattavano tutti una tutta una serie di altri meccanismi connessi con l'utopia e connessi con l'egemonia e connessi con forme abbondantemente criticabili e appunto da lì a poco Orwell Stalinismo e quant'altro avrebbero preso ovviamente avrebbero reso il tutto chiarissimo quindi come dire senza ombra di dubbio la critica di Popper non è non può essere estesa alla letteratura utopica ma ad alcune non all'utopia di Moore che mostra di non aver letto in maniera approfondita ma di sicuro Platone in testa ad alcune espressioni utopiche dove l'espressione di uno stato già perfetto e non perfettibile quello che forse non ho sottolineato bene in Moore è che lo stato modello degli utopiani non era naturale è riuscito a crearlo utopo isolando creando come isola e con delle leggi con delle norme stringenti che poi dopo sono state accettate da tutti e vissute nella più totalezza quindi è un risultato conseguito e questo naturalmente contraddice le teorie popperiane e le critiche popperiane non so se ho risposto no grazie insomma sono d'accordo con quello che dici tu fra l'altro però mi faceva piacere sentire il tuo parere su questa su questa questione insomma perché e fra l'altro la precisazione che hai fatto rispetto a Moore è particolarmente importante proprio riguardo alla non compiutezza e definitività dell'utopia che è quella che invece critica poco certo certo una società definita statica immortale immobile insopportabile ecco oddio alla fine alla fine anche nell'utopia moreana nel risultato finale insomma chi si discorsava però la tolleranza era molto estesa i valori di una umanità tollerante c'erano tutti quelli religiosi poi erano come dire una bestemmia per l'Europa del tempo e per la cristianità del tempo perfetto io mi scuso vi devo lasciare siamo in patria 19.08 grazie moltissimo saluti a tutti grazie a voi per la vostra pazienza no 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 ma per carità è il buon estate io devo allontanarmi perché ho un puntamento telefonico con un'intervista buona serata grazie grazie a tutti ciao 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 Enzo eccomi volevo solo faccio una battutaccia adesso visto utilizzando una fraseologia popolare e traendo spunto da quello che hai detto possiamo dire che stasera hai dato il bianco no sai qual è non non abbiamo il tempo ma sviluppare quello che Federica ci ha detto all'inizio vale a dire il metaverso questa realtà che in qualche misura ci condizionerà e sta già condizionando ecco riflettere su queste cose e su cose di questo tipo non è da poco ecco è molto ma molto importante sarebbe interessantissimo sì chissà che non si riesca accolga l'invito accolga l'invito e organizziamo così lo ascolteremo lo ascolteremo con tanto piacere anche perché è un tema altamente affascinante controverso con risvolti etici e bioetici incredibili quindi grazie professore anche della bella lezione grazie a voi molto bello grazie davvero buona serata grazie a tutti